Ed eccoci con voi, ancora buongiorno con Ore Sette, il buongiorno ve lo dà anche Rocco Burtone. Buongiorno Rocco. Buongiorno a tutti. Allora intanto partiamo da una mostra e poi parliamo di questo tuo consolidato rapporto con Rivignano. C'è una mostra che è stata inaugurata non molto tempo fa. Allora abbiamo inaugurato la mostra di Rocco Burtone alla Galleria La Loggia in pieno centro di Udine in piazza Libertà e questa mostra diciamo a me interessa particolarmente perché è da poco che mi sto interessando ad un nuovo genere pittorico che non è proprio pittorico. Insomma sono confezioni abbastanza stralunate, ecco qui ne vediamo una. Io li chiamo pipazzi, sono dei pupazzi che mi diverto a disegnare, ad assemblare con la carta dei giornali. Questo si è preso, aveva paura del covid e gli ho dovuto mettere la mascherina e come vedi è come un gioco per bambini dove alla fine i bambini si divertono ma si divertono anche gli adulti. Quando un bambino si diverte si diverte sempre anche l'adulto no? Perché di solito è la risata che porta. In questo caso non è che uno entra alla mossa e ride. Però senz'altro strappa qualche sorriso soprattutto poi se andiamo ad analizzare ogni quadro avendo delle parti che sono dei giornali strappati in pratica e nasce la curiosità. La pittura per te non siamo alla prima esperienza? C'è stata un'evoluzione? Sono arrivato a questo perché devo essere sincero mi sono stufato di usare i pennelli perché io non ho molto spazio, io dipingo in cucina e allora devo litigare con la mia compagna ogni volta perché io non posso tirar via, lei deve far da mangiare o se faccio io da mangiare è più facile. Se deve farlo lei mi caccia via dalla cucina e allora è diventato un po' anche un bisogno, una necessità quello di non sporcare la cucina e quindi uso la carta che non si sporca. Senti ecco e quindi proprio mi hai anticipato qual è il materiale che utilizzi? Ma qui in questo caso sono la carta dei giornali che naturalmente raccolgo da giornali che prendo io oppure che trovo nei bar che mi danno i giornali vecchi e cerco delle parole, delle frasi che possa qui, questo si chiama Ma che Sanremo naturalmente ha a che fare con il festival visto che io organizzo il festival più importante d'Italia che è il festival mondiale della canzone funebre, cosa vuoi andare a Sanremo, a cosa serve? Sì, tempo perso. Senti ma dove vengono adagiati questi fogli di giornali? Dove poggiano? Allora è una struttura rigida, una specie di materiale plastico che è bianco anche, che devo prima grattare perché altrimenti non prende la colla. Dopodiché attacco questi giornali, i pezzetti diciamo sono messi un po' alla volta e devono avere anche un minimo di spessore perché altrimenti non riesco a dare l'idea del chiamiamolo disegno insomma. Poi vedi comunque che c'è anche qualche colore, un po' di acritico lo uso comunque, in questo caso è dedicato a Mataran, a Led Rose, vedi trovo le parole, mi diverto con le parole, è un gioco, è un gioco che mi sta divertendo molto e devo essere sincero, sta ottenendo molto successo questa mostra, lo dico in maniera abbastanza particolare perché di solito le mostre aver successo è difficile. In questo caso ho notato insomma c'è una bella affluenza, ma oltre all'affluenza ci sono delle critiche positive perché insomma è la cosa più importante alla fine, se una cosa non piace perché la fai? Certo. Rocco allora parliamo di Rivignano, si sta avvicinando a grandi passi, c'è ancora il Covid però si fa lo stesso? Non solo si fa lo stesso, abbiamo quadruplicato o addirittura quintuplicato, attenzione, il festival della canzone funebre comincia il, viene fatto il 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre con la finale il 2 di novembre che è sempre stato, noi fino a ieri abbiamo fatto solo il 2 di novembre, cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi per 5 giorni saremo sul palco del festival in piazza a Rivignano e faremo 4 giornate di semifinali, chiamiamole così, e la giornata finale il 2 di novembre ma molto importante che nelle 4 giornate si affronteranno dei gruppi musicali, 4 o 5 per sera e ci sarà un vincitore per ogni sera che poi alla fine, il 2 di novembre ci sarà la finale che vedrà il vincitore assoluto. Ma volevo sottolineare che i 4 vincitori hanno comunque vinto, perché il festival quest'anno non finisce a novembre, addirittura prosegue all'inizio dell'anno prossimo. Ogni semifinalista avrà come premio l'organizzazione da parte nostra di un concerto in 4 comuni limitrofi in teatro, questa è la novità, perché invece di dare premi qualsiasi abbiamo pensato che il premio più bello fosse apposta quello di portare sul palco i vincitori di ogni serata, naturalmente anche il vincitore finale, perché c'è comunque un vincitore finale che vincerà, vediamo, perché siamo ancora in fase di lavoro, vediamo se dargli una coppa o un regalo, non sappiamo ancora cosa, sinceramente, perché come puoi immaginare l'organizzazione è partita molto in ritardo per colpa del Covid, ma ci stiamo dando da fare e siamo riusciti a raggiungere innanzitutto il risultato di trovare i gruppi e i cantautori che parteciperanno. Infatti vedo un elenco piuttosto nutrito. Eh sì, abbiamo, alla fine sono 17 i partecipanti, dovevano essere 16, c'è stato un disguido con un gruppo che sembrava non venisse, poi saranno 17, numero strano, e infatti una serata sarà, si confronteranno 5 gruppi e nelle altre serate 4 gruppi per sera. Sono gruppi, diciamo, abbiamo fatto anche scelte abbastanza limitate, sempre per il Covid, non potevamo andare troppo lontano, insomma, meglio premunirsi. Diciamo che il cantautore più lontano viene da Parma, ecco, però siamo comunque a distanze abbastanza accettabili. Senti Rocco, ma questa è una musica che ha mercato? Siccome, non lo si può dire, perché sono talmente diversi gli stili, perché qui in mezzo abbiamo gente che fa swing, il cantautore, chi fa blues, addirittura abbiamo chi fa rock pesante, adesso proprio l'ho visto leggendo, per esempio, Franze Mercalli e Tellurica, quindi ognuno ha un suo mercato, ed è un mercato che naturalmente, diciamo, è limitato, qui non abbiamo nomi di rilievo nazionale, però alcuni di loro, per esempio, sopravvivono bene. Quando è nato, lo ricordiamo, il festival della canzone funebre? Allora, lo ricordiamo con qualche dubbio. Il festival nasce, credo, 25 anni fa, però era un festival minimo, limitato ad una pedana, sotto la pioggia quando pioveva, con Enrico Tonazzi che faceva un po' il mago zurlì della situazione, ma ci si divertiva molto, però era messo in un angolino. Dieci anni fa abbiamo pensato, insieme a Mario Anzil, di costruire una cosa un po' più efficace e così il sindaco ci ha dato la possibilità, ha creduto in noi, diciamo, perché gli abbiamo fatto questa proposta, ha creduto in questo progetto e posso dire che da dieci anni il festival è diventato una manifestazione non più relegate in un angolo, ma anzi è diventata una manifestazione molto importante per il comune di Rivignano, ma per la regione, per Giulia e Giulia, perché come sai, se ne è parlato e se ne parla un po' dappertutto, noi abbiamo giocato negli ultimi dieci anni, più che sulla goliardia, sulla qualità degli artisti, ovvero non che prima fossero scadenti, semplicemente diciamo era buttata un po' così sulla compagnia, sull'amicizia. Adesso abbiamo lasciato da parte l'amicizia pura, avendo amici che partecipano e ci siamo molto interessati a progetti che abbiano qualcosa, contenuti importanti. In quell'elenco ci sono dei senatori a vita, diciamo, persone che sono presenti ormai da anni e anni? Sì, sì, allora innanzitutto vorrei citare, che tornano dopo due anni che sono mancati, all'ultimo momento, perché sono quelli che negli anni hanno portato una situazione scenica molto teatrale, si portavano dietro la lapide per intenderci e hanno raccontato una storia, una specie di Giulietta e Romeo, friulana, dove i due si rincorrono e ogni anno la storia di questi due amanti, cioè continua, è un racconto che non finisce mai. Chi sono? All'ultimo momento il leader, diciamo, quello che scrive i brani è Pierluca Montessoro, che oltre che musicista è anche un docente universitario qui a Udine. E poi, per esempio, abbiamo gli Erba Project e gli Erba Project vedono sul palco, per esempio, Freddy Cappellini, Freddy Cappellini è un musicista storico, suonava con i Pitoni negli anni Sessanta ed è ancora qua, perché noi giovani guardiamo a loro che sono i patriarchi della musica in Friuli. Naturalmente questi gruppi poi sono misti, perché tu vedi il patriarca, che in questo caso è Freddy Cappellini, e poi vedi la giovane che è la cantante che è Eleonora Sensidoni. Oppure, sempre andando avanti, qui abbiamo Arno Barzane e Francesca Smiraglia, due personaggi, uno meglio dell'altro, che ognuno racconta, perché c'è da dire una cosa, a differenza di altri festival, noi non portiamo una canzone, noi mettiamo sul palco per 12-15 minuti gli artisti che cantino e facciano quello che vogliono. C'è una canzone in gara, che è la prima, e quella sarà quella votata. E poi per altri 8-9 minuti possono raccontare musicalmente quello che vogliono, affinché la giuria abbia consapevolezza di che cosa, insomma, un artista non può raccontarsi con una canzone, non è possibile, i 3 minuti non bastano. Rocco, abbiamo esaurito il tempo, ricordiamo solo l'appuntamento col Festival Mondiale della Canzone Funabre, si inizia? Allora, inizia il 29 di ottobre, poi continua il 30 e il 31 sempre di ottobre, 1 novembre, quindi 4 giornate di semifinali e la finale 2 di novembre. Beh, si può prenotare telefonando al Comune di Rivignano e ricordo che per il Covid ci saranno i distanziamenti e quindi purtroppo non avremo la folla che abbiamo avuto negli anni passati e però, insomma... Intanto è un segno di continuità. Assolutamente, dovevamo farlo, perché altrimenti se fermi queste piccole cose, piccole grandi cose, alla fine diciamo muore veramente qualcosa. E noi che facciamo il Festival Funabre non vogliamo che muoia niente e nessuno. Grazie per questa chiusura, quindi grazie Rocco Burtone, ma ne parleremo ancora. Festival Mondiale della Canzone Funabre collegato ovviamente alle celebrazioni di ogni santi a Rivignano, che tra l'altro è una festa, lo ricordiamo con tradizione ultra centenaria. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi c'è ancora un po' di rassegna stampa. Grazie per la visione!